Tante le novità nel campionato di eccellenza in queste ore. In tanti eri si è giocato la gara di recupero tra Atletico Catana e Rosolini, vinta dagli Etnè per 1-0 grazie ad un gol di Torcivi al 37esimo. Il Rosolini già in vacanza e l'Atletico dunque ne ha approfittato, conquistando tre punti d'oro utilissimi per continuare a collare il sogno salvezza, anche se molto dipenderà dall'esito alla trasferta di domenica a Caltagirone. Sembra praticamente ormai spacciato, invece il Città di Ragusa a 12 punti, a quattro punti dalla zona play-out e domenica, tra l'altro, avrà l'ostica trasferta di Giarre. Si ritiene infine Ladrano dopo quattro rinunce, non si è riuscita alla fine a salvare il titolo e la gloriosa società e purtroppo da queste parti non è una novità, ad anno che è stato radiato dal campionato. Infatti la squadra danita, in seguito alle note vicende societarie, non si è presentata per la sfida col Camaro ed essendo appunto la quarta rinuncia, secondo il regolamento, è stata cancellata. La presenza e dirigenza era formata da ragazze daniti che erano usciti in pochi anni a passare dalla terza cattoria e alla promozione. Una società solida e allo stesso tempo giovane e ambiziosa, ma adesso è arrivata al capolinea. Infine il Biancovilla, dopo il tecnico Napoli si dimette, torna Cacciolla. A volte ritornano, con Cacciolla nuovamente allenatore del Biancavilla, rimattinata, arrivate le dimissioni di Napoli, con la dirigenza in poche ore, che ha ricontattato l'allenatore che aveva iniziato la stagione e gli ha affidato nuovamente la panchina.